Bentornati sul canale della Happy Family Maker, oggi un breve video su come realizzare degli scassi per maniglie a gola con una fresa a coda di rondine. È un'operazione relativamente semplice, bisogna solo prestare attenzione a due o tre particolari che vediamo adesso insieme. Innanzitutto perché utilizzare una fresa a coda di rondine e non una classica fresa candela? Semplicemente perché l'inclinazione interna della coda, che di solito è di 14 gradi, consente una miglior presa e quindi una miglior funzionalità della maniglia. L'inclinazione di fatto si oppone allo scivolamento delle dita in fase di apertura e di chiusura. Vediamo come procedere. Allora, supponiamo che questo sia il pezzo su cui voglio ricavare la mia maniglia a gola, mentre questo sia il pezzo da cui voglio ricavare la dima. Il primo passo è quello di definire le dimensioni della gola e andarle a disegnare sul pezzo in lavorazione. Secondo passo, devo realizzare la dima. Innanzitutto riporto sulla dima le stesse dimensioni della gola che voglio ottenere. Terzo passo, elettrofresatrice. La suola di questo modello ha un andamento curvilineo lungo questo lato e rettilineo lungo quest'altro. Io devo andare a prendere la distanza che c'è tra il limite della suola nella parte curvilinea e la fresa. Non importa dove vado a misurare questa distanza, l'importante è che la vado a misurare nella parte curvilinea. Tanto l'andamento è quello di una circonferenza, quindi la distanza sarebbe comunque la stessa in qualsiasi punto. Comunque, preso questa distanza, la devo poi andare a riportare parallelamente al segno della gola che avevo fatto in precedenza sulla dima. A questo punto posso tagliare lungo le tracce e ottenere finalmente la dima. Una volta fissato saldamente il pezzo in lavorazione e la relativa dima con dei morsetti, è necessaria un'ulteriore precisazione. Allora, prima vi avevo detto di prendere come riferimento per realizzare la dima la distanza tra la parte curvilinea della suola e la fresa e non la parte rettilinea. Vi spiego subito perché. Supponiamo di aver preso come riferimento la parte rettilinea. Cosa succede? Che dovete lavorare mandando in appoggio la parte rettilinea. Su questo lato la cosa funziona abbastanza bene, su quest'altro lato, a favore di telecamera, mettiamo questo lato, la cosa funziona abbastanza bene, il problema nasce quando devo passare da un lato all'altro. Cioè per mantenere la distanza che avevo prefissato, quando passo da un lato all'altro, come vedete, la fresa si allontana rispetto al bordo, più della distanza che avevo preso tra appunto la parte rettilinea e la fresa. E questo dal punto di vista geometrico mi potrebbe, o meglio, mi creerebbe sicuramente dei problemi. Non riuscirei ad ottenere uno scasso preciso. Viceversa, se fate come vi ho detto io, cioè se prendete come riferimento la parte curvilinea della suola, questa distanza è sempre garantita, passando da un lato all'altro. Non c'è, come vedete, soluzione di continuità. Tutto risulta molto abbastanza semplice e fluido. Prima di procedere, un'ulteriore e doverosa precisazione. Qui ho rappresentato la sezione della mia gola che voglio ottenere utilizzando questa fresa a coda di rondine. Il primo punto da sottolineare è legato al fatto che non posso procedere per asportazioni successive di materiale affondando progressivamente la fresa. Questo perché, malgrado la fresa abbia i lati inclinati, nel momento in cui affonda all'interno del materiale produce comunque uno scasso, lo vedete qui rappresentato in matita, uno scasso di tipo cilindrico. E non è quello che voglio ottenere. Io voglio ottenere uno scasso, lo vedete qui rappresentato con il pennarello rosso, voglio ottenere uno scasso che abbia i lati inclinati, con la stessa inclinazione della mia coda di rondine. Quindi abbiamo capito che dobbiamo affondare del tutto la mia fresa all'interno del materiale fino alla base di questo che alla fine è un cilindro, che è la forma appunto della mia gola, fino alla base maggiore di questo trapezzo, quindi alla base della mia futura maniglia. Solo una volta aver affondato la fresa del tutto, posso spostare la stessa verso destra e verso sinistra, allargando lo scasso e ottenendo questo che è il risultato finale. Devo ricordarmi però che una volta che ho finito di eseguire la fresata, la fresa va sollevata e non va sollevata in prossimità dell'estremità, perché così facendo otterrei lo stesso risultato che non voglio ottenere di cui vi ho parlato in precedenza, cioè uno scasso cilindrico. Tornerei appunto all'inconveniente che abbiamo visto prima. Quindi sia in fase di affondamento della fresa che in fase di sollevamento della fresa, l'affondamento e il sollevamento dove avvenire in corrispondenza della base minore di questo trapezzo, cioè dell'impronta in superficie della mia maniglia a gola. Quindi io affondo nella parte centrale, eseguo il mio scasso e sollevo sempre nella parte centrale. A questo punto posso regolare la profondità di affondamento della fresa che coinciderà con la profondità della gola. Come vi dicevo in precedenza, partenza con fresa centrata, altrimenti ottengo uno scasso cilindrico, non troppo a destra né tantomeno troppo a sinistra. La centriamo all'interno del futuro scasso. Soprattutto un unico affondamento fino in fondo e poi una volta che abbiamo affondato fino in fondo posso allargarmi a destra e a sinistra. Via! Solleviamo la fresa sempre nella parte centrale. Andiamo ad asportare tutto il materiale. Adesso ci vuole una leggera levigata, cercando di eliminare eventuali segni di bruciatura. Segni di bruciatura che è possibile, diciamo, contenere come regolando opportunamente la velocità dell'elettrofresatrice, quindi della velocità di rotazione della fresa, ma anche cercando di avere una fresata il più fluida possibile, cioè non soffermarsi mai sullo stesso punto, procedere sempre con una certa velocità man mano che si muove la fresa. Questo è il risultato finale della prova e questa invece è una maniglia già laccata eseguita per il mobile ingresso che ho realizzato in questi giorni. Spero di esser stato chiaro e di essermi spiegato. Non esitate a far qualsiasi tipo di domande se qualcosa fosse poco chiaro. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questo genere di video con brevi approfondimenti vi è utile. Ce ne saranno ancora altri in preparazione al video del mobile ingresso in cui cercheremo di mettere in pratica tutte queste nozioni in pillole. Un caro saluto e un arrivederci sempre qui sul canale della Happy Family Makers. Ciao!